Na 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 Bentornati a una nuova puntata di TGQ L'unico telegiornale finto che si prende sul serio Oggi le notizie Milano, Villa Pizzone, ho fatto un nuovo ricamino sulla felpa Come potete vedere Milano, Villa Pizzone, Big G Widow è tornato da Parma E si è messo a haslare duro con quel cazzo di cartone limato That's what I'm talking about Milano, Inghilterra, F17, sei mesi fa Fa uscire una traccia drill inglese con qualche parola di testo in italiano Che spacca di brutto Sentiamola Sottotonnale Calore puro Calore puro Milano, Sanremo, Bugo è qui Milano, Sanremo, i nazi skin arrivano al primo posto e Fedez secondo Milano, Sanremo, Fedez nonostante abbia continuato a fare la pussy tutto il festival come se non fosse in televisione da tutta la vita È arrivato il secondo posto Che pussy, cioè ma perché? Ma perché ha continuato a rompere i coglioni tutto il festival facendo la sbarbina che ha bisogno di attenzione? Cioè nel senso neanche una tiktoker, cioè nel senso dai, cioè bro Il timore di salire sul palco Oh wow, mi son sentito così Osservato Zio, cioè sei in televisione da tutta la vita Cioè smettila Smettila di farla pussy Cioè vuoi fare una live su tiktok dove piangi? Bro, basta Ok, scusate Allora Milano, dietro una Mercedes, Tony F sta facendo pausa paglia Milano, YouTube Forse oggi pubblico tutte le animazioni puzzone che ho fatto tutte in alla volta Perciò Ora andiamo ai nostri inviati fanculo speciali Allora Goat del crack ci informa che that's a fact And that's a fact Leonardo da... fanculo Leonardo da Mario ci informa che l'HIV non esiste And that's a fact Loris Fazio, cioè fanculo Loris Fazio ci informa che nel tigiculo di domani ci saranno le notizie di ieri And that's a fact And that's a fact Punto commented ci informa che ci informa che ci informa che ci informa che and that's a fact Fanculo Folgore Venti ci informa che avvocato di pre nominato nuovo presidente del consiglio and that's a fact Fanculo Monti ci informa che bella per Ricky BMG and that's a fact Di cosa stiamo parlando? Va bene Luigi Possessi... fanculo Luigi Possessi ci informa che culo brand Fanculo Mattia P ci informa che le... no? Beh, sappiate che se fate i commenti e poi li eliminate appaiono comunque Mattia P ci informa che amo... no, fanculo Mattia P ci informa che amo a colazione la mattina Pensare che i rapper ritardati propsati sui G si sveglino freddi And that's a motherfucking cold-ass fact Ma fanculo Mattia P ci informa che... fact I trans sono solo dei cosplayer And that's kind of a fact No, dai Allora Fanculo Lorenzo Vago ci informa che... mai smurda, mai smurda Fanculo Michele Donati ci informa che... Stato in crisi il popolo necessita della reaction alla puntata 8 di Mare fuori And that's a fact Bene, questo è tutto per... Fanculo 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 Ho 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 Grazie a tutti.